Avete presente quelle fastidiosissime macchie che ogni tanto vengono fuori sul vostro video? Oggi vi do la soluzione Sì, la soluzione a tutti i vostri problemi è questa La trovate su Amazon, vi lascio il link in descrizione E vi dico anche quanto costa perché ho proprio qui davanti Amazon con gli ordini Per il folle prezzo di 19,99€, è in offerta, quindi ora costa 23,99€ Avete ben 12 pezzi che vi permettono di pulire il vostro sensore della telecamera In questo caso APS-C perché io ho delle Sony, delle Alpha 5100, 6300 E ho deciso di prendere questo, ma ce ne sono di tutti i tipi e di tutte le misure dei sensori Tra l'altro pulisce anche le ottiche È un prodotto wet, quindi bagnato Vediamo se ho ancora fuori quello che ho usato Sì, si presenta in questa maniera qua, vi mostro cosa c'è all'interno della scatola Sono 12 confezioni di questi prodottini qui E funzionano con questo sensor cleaner Che è un liquido che va messo sulla punta di questi becchetti Ve ne mostro uno, tanto sono usa e getta, ce ne sono 12 per quello E si presenta così, in questa maniera Cosa fate? Fate semplicemente ciò che nessuno ha mai il coraggio di fare Ovvero aprire la camera Prendo la mia Sony 6003 Togliere l'obiettivo E all'interno del sensore Dove avete sicuramente qualche piccola macchietta Se state guardando questo video Basterà semplicemente andare a pulire il sensore con questo bacchetto Adesso non lo faccio perché l'ho già fatto su entrambe le telecamere Ma la cosa interessante è che vi troverete questo liquido Che poi si asciuga in veramente pochissimo tempo E poi avrete la possibilità di fare un test e vedere la differenza Ma per darvi un'idea di come era prima e come era dopo Vi faccio vedere un pezzettino di video del test Che ho fatto prima della pulizia e dopo la pulizia Eccoli qua Anche F16 Ah lo vedo anche a occhio nudo Io personalmente sono rimasto sballordito Dal successo di questo prodotto Perché ci ha mai risolto un sacco di problemi Non avete l'idea Quella volta che ho fatto il video a Venezia Tra l'altro se non l'avete visto guardatevelo qui sopra Vi metto il link del Redentore Quando sono tornato da Venezia Ho scaricato i video carichissimo Perché ero felicissimo del video vlog Che avevo fatto E porco giuda mi sono trovato una marea di macchie Che alcune sono riuscito a togliere in post produzione Ma vi assicuro che è un lavoraccio mostruoso Quindi mai più senza la PSC Sensor Cleaner Kit Cleaning Kit Che su Amazon avrete la possibilità di comprare a 23-24 euro Oh spero che vi sia stato utile sta cosa ragazzi Cioè 5 stelle per questo prodotto Tra l'altro un prodotto da 124 recensioni 4 stelle e mezzo di recensioni positive Veramente tutti 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 Tanto soddisfatti di questo prodotto Io compreso E adesso mi butto e vado a fare subito una recensione Il link in descrizione per l'acquisto di questo prodotto Non mi resta che salutarvi Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Cliccate mi piace su questo video Oh c'è una campanellina anche da attivare Altrimenti non rimarrete mai informati Su quando vado a caricare nuovi video su YouTube Non mi resta che salutarvi Un saluto a tutti quanti Al prossimo video Ciao